Il tappeto sul soffitto. E adesso? chiesero tutti guardando Capopò. Adesso viene il bello. Sta per avere luogo la più grande beffa rovesciata di tutti i tempi. Siete pronti? Siamo pronti! risposero tutti insieme. Li vedete? Tirate via il tappeto, tiratelo fuori da sotto i mobili e appiccicatelo al soffitto. Al soffitto? Ma è impossibile papà! Appiccicherò te al soffitto se non chiudi subito il becco, lo rimbeccò suo padre. È pazzo, gridarono tutti. È suonato! È svitato? È svanito? È svampito? È rimbecillito? disse l'uccello Rococò. Oh, finitela di dire scemenze e datemi una mano, disse Capopò afferrando un angolo del tappeto. Tirate, forza, tirate! Il tappeto era immenso. Copriva l'intero pavimento da parete a parete. Aveva un disegno rosso e oro. Non è facile tirare via dal pavimento un tappeto così grande quando la stanza è piena zeppa di tavoli e di sedie. Poveri uccellini e scimmiette! Capopò saltellava per la stanza come un invasato, gridando ordini a destra e a manca. Non gli si può certo dare torto. Dopo mesi e mesi passati a testa in giù con la sua famiglia, non vedeva allora che i terribili sporcelli facessero la stessa fine. Con tutte le scimmie e gli uccelli che tiravano e sbuffavano, il tappeto fu sollevato dal pavimento e sato finalmente al soffitto. E là rimase appiccicato. Di colpo tutto il soffitto del soggiorno fu tappezzato in rosso e oro.